Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Gulten, che dopo essere stata presente durante la discussione tra Sevda e Sermin, interviene dicendo a quest'ultima di essere lì solo per spettegolare e di andarsene a casa. Sermin, infuriata, la minaccia, ma Gulten la accusa di comportarsi come se fosse interessata a Demir. Gulten sa bene che Sermin sarebbe felice se a Demir accadesse qualcosa, e che anche Ankar lo sapeva, vietandole l'accesso a casa quando era viva. Sermin urla minacce e Gulten, stufa, la caccia di casa. Sermin continua a minacciare, assicurando che la farà licenziare e finire in carcere. Nel frattempo, Demir riceve la visita di Sermin, che gli riferisce che Zuleyha è andata ad Istanbul per cercargli un buon avvocato e che si sta occupando dei bambini. Demir le dice che non è necessario, poiché Sevda si occupa di loro. Sermin ribatte dicendo che Sevda non è in grado di pensare neanche a se stessa e gli rivela il legame tra Sevda e Umit, aggiungendo che Sevda è sempre in ospedale con lei. Demir, arrabbiato per le insinuazioni, se ne va senza ascoltarla. Nel frattempo, Lucy si reca a Mersin nell'hotel dove alloggia Fikret e ottiene il numero della sua stanza con la scusa di fargli una sorpresa. Zuleyha arriva all'hotel e si siede nella hall. Lucy, arrivata alla stanza di Fikret e non ottenendo risposta, entra e scopre il disordine, rendendosi conto che qualcosa è successo. Tornando nella hall, vede Zuleyha parlare con Sadi e sente che lui le promette di parlare con Fikret e informarla. Zuleyha decide di seguirlo, e Lucy, a sua volta, decide di seguirli con la sua macchina. Arrivati al magazzino, Zuleyha entra e confessa a Fikret di averlo fatto arrestare, rimproverandogli di averle detto che voleva la sua vendetta, mentre lui specifica che cercava solo le scuse di Demir. Zuleyha controbatte a Fikret, sostenendo che lui desiderava che Demir si scusasse per qualcosa che non aveva commesso e che ora Demir è in prigione, nonostante sia stato Fikret ad aggredire Umit. Mentre Fikret cerca di liberarsi di nascosto dalle corde che lo tengono bloccato dietro a una sedia, risponde a Zuleyha affermando che se Demir non fosse andato da lei, nessuno l'avrebbe incolpato. Lei gli propone di recarsi alla polizia e dire la verità. Fikret replica dicendole che Demir era con Umit perché la stava tradendo con lei, e le chiede di indagare sul viaggio che hanno fatto insieme ad Antalya. Nel frattempo, Lucy, nascosta dietro la porta, si allontana. Non credendo alle parole di Fikret, Zuleyha gli punta una pistola e gli intima di smettere di mentire o sparare. Fikret, liberatosi, afferra la pistola e la puntata contro Zuleyha. La spinge a terra e scappa. Poco dopo, Lucy raggiunge Fikret sulla sua macchina e insieme fuggono. Si fermano successivamente e Lucy gli consiglia di scappare in Germania, dove non potranno trovarlo. Fikret le racconta che stava per andarsene con Mugeigan, ma lei lo ha lasciato perché non lo amava. Decide di recarsi ad Istanbul, dove troverà lavoro e lascerà tutto alle spalle. Lucy insiste sulla fuga in Germania, ma Fikret è convinto che quando Umit si sveglierà, scagionerà Demir. Lucy gli ribatte che Umit è già sveglia e ha dichiarato che è stato Demir a spingerla dalle scale nel tentativo di ucciderla. Lucy chiede a Fikret se è stato lui, ma quest'ultimo rivela che Umit è caduta da sola. Lucy gli chiede il motivo per cui non ha chiamato un'ambulanza, e Fikret risponde che pensava che fosse morta. Nel frattempo, Fikret si avvicina a Mugeigan, la quale è visibilmente commossa, e le esprime quanto percepisca il suo dolore. Le confida che vede quanto stia soffrendo. Mugeigan, a sua volta, gli chiede se la considera ancora come una figlia. Fikret risponde con amarezza, sottolineando come lo abbia nuovamente ferito portandogli via Kerem, nonostante l'abbia sempre trattata come una figlia. Mugeigan, con occhi pieni di rimorso, chiede scusa e ammette di aver commesso un errore nel fidarsi di Fikret. Fikret le risponde che il vero errore è stato non credere in se stessa, e le suggerisce di cercare la felicità e la sicurezza dentro di sé. Gli dice che solo così potrà trovare qualcuno che l'amerà veramente. Mugeigan lo abbraccia, promettendogli che cercherà la sua felicità. Nel frattempo, Nazire informa Fikret che Lucy è andata a Karaman a causa di un incidente automobilistico che ha coinvolto un'amica con la sua famiglia. Luce le ha chiesto di non avvisare Fecheli per evitare preoccupazioni. Fecheli, dubbioso sul motivo della partenza di Luce, apprende da Mugeigan che potrebbe essere andata a cercare Fikret, poiché le ha fatto molte domande sull'hotel in cui alloggiavano. Fecheli, interessato, chiede il nome dell'hotel e si allontana. Nel frattempo, Fikret informa sua zia che intende recarsi dalla polizia per dire la verità, poiché Demir è ingiustamente in prigione. Nonostante il desiderio di punire il padre per le sue azioni, non può permettere che rimanga in carcere a causa di una bugia di Umit. Sadi, nel frattempo, ha condotto Zuleya in una camera dell'hotel in cui alloggiava Fikret, mettendola a letto mentre era ancora incosciente. Dopo l'impatto subito quando Fikret l'ha violentemente gettata a terra, Sadi, una volta dato l'ordine ai suoi uomini di cercare Fikret presso stazioni e aeroporti. Lascia la scena e si dirige verso la hall per permetterle di ritrovare un po' di tranquillità. Nel frattempo, Fecheli e Cetin giungono in hotel, scoprendo che Fikret è scomparsa senza alcun preavviso e senza saldare il conto. Nel frattempo, nella villa, tutti sono preoccupati per Demir e l'assenza di Zuleya. Sevda, sebbene ansiosa, cerca di mantenere la situazione sotto controllo e si prende cura dei bambini. A Mersin, Zuleya si risveglia dolorante, e Sadi le comunica che non ci sono aggiornamenti su Fikret, ma stanno facendo ricerche e la cattureranno prima che possa partire per l'estero. Nonostante questo, Zuleya decide di tornare a casa, ignorando l'avvertimento di Sadi di non partire finché non sarà completamente guarita. Nel frattempo, alla villa, gli uomini di guardia al cancello vengono sopraffatti da due individui mascherati, che penetrano nella villa, aprono il cancello e permettono l'ingresso di altri complici con un camion. Uno di loro, minacciando Gaffur con una pistola, lo conduce nel fienile, dove gli altri servi vengono già tenuti prigionieri e li chiude all'interno dopo averli minacciati. I ladri si dirigono poi verso la villa, frantumano i vetri del primo piano e entrano. Si dirigono nella camera di Sevda, la minacciano con la pistola e iniziano a rubare. Saccheggiano l'intera villa e, nello studio di Demir, riescono ad aprire la cassaforte utilizzando una chiave trovata in un cassetto, prelevando tutto il denaro al suo interno. Prima di fuggire, Sevda riesce a fermarne uno minacciandolo con la pistola e lo costringe a lasciare il sacco con i soldi. Tuttavia, in quel momento giunge Adnan, appena svegliato, e il ladro, velocemente, lo prende in braccio minacciandolo a sua volta con la pistola. Sevda implora il ladro di lasciare il bambino, ma egli si allontana portandolo con sé. In un momento di fredda determinazione, Sevda spara al ladro ferendolo alla spalla e riesce a riprendere Adnan. Il ladro, benché ferito a terra, cerca di prendere la mira per spararle, ma in quel momento arriva Zuleya, che, appena arrivata, gli spara a sua volta, uccidendolo. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se sei curiosa di scoprire cosa succederà scrivi, voglio il continuo, nei commenti, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!